Che è successo? Che c'è? Che mi volevi dire? Che finalmente tornano i Cinema Days Ah, e che cosa sono? Dall'11 al 14 aprile tutti al cinema a 3 euro Ah, e in 3D? 5 euro Quindi c'è questa comodità, approfittano, no? Ah, noi andiamo al cinema Insomma, tutti quelli italiani vogliamo vedere noi, sì Magari i nostri Non dovevamo dirlo? No! Grazie a tutti